Il trappianto Cartier-Argino Joint Trap with the Micro Fracture è un sistema di trappianto che è stato messo a punto da me nel lontano 2013. Il sistema Joint Trap consiste nell'uso di un idrogel che a temperatura ambiente solidifica e nasceva come sistema filler per piccole lesioni cartier-arginia. Mi fu proposto uno studio di sviluppo del prodotto e l'ideazione di una nuova tecnica chirurgica. Mi occupai di questo nel 2013 ed impiantai uno studio multicentrico, retrospettivo, su un gruppo di pazienti in cui parificavo la light tecnica Joint Trap with the Micro Fracture alle sole Micro Fracture. Da questo studio, ormai a tre anni di follow-up, sono stati trattati più di 118 pazienti. I risultati sono stati enormi. Abbiamo potuto vedere la ricrescita di cartieragine e ialina con collagene 2 con ripristino totale della funzionalità articolare. Lo studio è stato compiuto per ora soltanto sul ginocchio. Indicazioni all'impianto di questo tipo di trappianto sono tutte le lesioni cartier-arginie sia del contrio femorale mediale che del contrio femorale esterno, che della rotola, che della trocola femorale, con lesioni trattate fino ad adesso massimo di 4 cm2. L'intervento viene fatto in anestesia locale e necessita di un solo giorno di ricovero. Al paziente gli è concesso il carico concesso, già dal primo giorno dell'intervento, con l'uso di una sola stampella per 5 giorni. La ricrescita di cartieragine l'abbiamo potuto apprezzare con sistemi RMN eseguiti a 6 mesi e ad un anno. Sono stati impiantati molti sportivi con la ripresa dell'attività sportiva già concessa tra i 6 e gli 8 mesi dell'intervento.